Per effettuare i tamponi completamente gratuiti a chi li volesse, due gli ambulatori mobili della URSS3 da questa mattina presenti nell'area decente al campeggio di Isola Verde di Chioggia, dove è stato riscontrato il cluster di positività al Covid con variante Delta. 15 le persone che sono risultate positive, di cui nel dettaglio 8 del Padovano, 2 del Trevigiano, 3 del Vicentino, con due residenti fuori regione, ovvero una nel Lazio e l'altra in Liguria. Nello specifico stiamo facendo proprio uno screening di popolazione a supporto e opportunità di tutta la popolazione che sta frequentando questo camping a seguito del caso positivo che c'è stato e è proprio un'opportunità che viene data dalla regione Veneto, dall'UrSS3 Serenissima, tutte le persone che vogliono sentirsi sicure e fare una vacanza serena. Il focolaio è individuato la scorsa settimana perché uno dei bimbi di 10 anni del Padovano, iscrittosi al camp rugby, aveva manifestato un gran mal di testa seguito il giorno dopo da una forte febbre. Da qui il tampone, cui è stato sottoposto giovedì 24. Riscontrata la positività, i medici USCA di Chioggia hanno provveduto a sottoporre a tampone molecolare 21 persone, tra compagni di squadra, allenatori, animatori e membri del camping, con altre 28 persone, di cui 17 collegate al cluster del campeggio, presentatisi spontaneamente anche nelle ulse di residenza per essere a loro volta sottoposte a tampone. Dall'indagine epidemiologica non risultano positivi sintomatici vaccinati ed è chiaramente certa la diffusione tipica dei cluster pediatrici. Una mamma, l'unico genitore positivizzato, in seguito al contatto con il figlio a sua volta positivo e che, vaccinata con due dose di Moderna, è però asintomatica. La preoccupazione, non glielo nascondo, c'è anche per le persone già vaccinate? Certo, noi sappiamo che comunque la vaccinazione fatta in duplice dose, come è da prescrizione regionale o comunque da ministeriale, garantisce una buona protezione. Quindi l'invito è sempre quello anche di vaccinarsi, continuare a vaccinare.